Per Capaccio Pestum è un momento di difficoltà. Parola del candidato sindaco Vincenzo Sica, già sceso in campo ed ospite di fatti e dintorni. Un'occasione per spiegare le ragioni della candidatura ed indicare i primi obiettivi da raggiungere. Perché il paese è allo sbanto così non può rimanere, occorre ricreare dei riferimenti. Mi sono fatto un giro di perlustrazione nel paese, abbiamo verificato con i giovani, con con il passato e insomma intorno a me si stanno quadrando una serie di importanti consensi e questa cosa mi ha motivato a riprendere la corsa. È la prima opera pubblica da realizzare, ricreare, ricolmare quel vuoto che ovviamente è necessario che lo conosciamo, che lo sappiamo. C'è un vuoto da colmare fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il cittadino è portato a non credere più alla campagna elettorale, ai programmi, al libro delle favole. I cittadini sono portati invece a capire, a scrutare, oltre che intorno alla figura del sindaco, soprattutto intorno alla figura della proposta del Consiglio Comunale, perché è lì che si sono avute molte implosioni che hanno poi di fatto messo fino alle esperienze amministrative di Capaccio. Quindi guardano la figura del sindaco, ma guardano soprattutto alla figura della squadra di cui il sindaco si circonda. Grazie.